Grazie a Pace, buongiorno a tutti. Siamo sempre qui a Lucerna con i miei amici Daniele e Claudia e mi hanno portato a vedere questo ponte meraviglioso di legno. Mi è venuto in mente il fatto che Gesù è il ponte che fa da sponda sul cielo e sulla terra e l'unico modo per poter arrivare da un punto all'altro dalla terra al cielo è proprio quello di usare il ponte di Gesù Cristo. Purtroppo c'è una certa persona in questo mondo che si fa chiamare pontefice e pontefice è proprio l'unico pontefice è Gesù Cristo perché l'unico pontefice che fa il ponte da ponte alla terra al cielo è Gesù Cristo, non è il pontefice vestito di bianco. E questo ponte qui è bruciato nel 1991 per un incidente, è bruciato, è stato il nostro ponte, non brucerà mai, il nostro ponte è eterno, il nostro ponte porta una persona dalla terra al cielo e una volta che è arrivato al cielo il ponte crolla perché non c'è ritorno. Una volta che tu sei nel cuore di Dio, una volta che tu sei nel cuore di Gesù Cristo, nella mano del Signore, nessuno potrà mai toglierti da quella mano. Quindi viva il pontefice, quello vero. Amen. Grazie a tutti.